Amici detectoristi buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Natale alle porte e molti di voi, diciamo tutti, magari stanno pensando a cosa mettere sotto l'albero. Perché allora non approfittare delle incredibili offerte Christmas Sale di Detector Shop? I migliori metal detector, accessori e strumenti da scavo a prezzi mai visti. E poi ci sono le incredibili offerte combo, con metal detector o pinpointer insieme ad altri accessori per essere subito al top nelle vostre ricerche. Quest'anno non serve scrivere a Babbo Natale, basta digitare www.detectorshop.it Ah, e buon Natale a tutti! Fuori onda Come? Come? No, 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 quella col cappellino da Babbo Natale era la pubblicità dell'anno scorso. Quest'anno appunto tutto sul fisico. 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 Quest'anno appunto tutto sul fisico.